Monsignor Salvatore Nunnari dopo l'assoluzione di padre fedele interviene sulla vicenda e convoca i giornalisti per chiarire la propria posizione e rispondere alle accuse mosse dal frate il quale ha chiesto pubblicamente l'annullamento della sospensione a Divinis. Non sono io a chiarito Nunnari che ho sospeso padre fedele a Divinis ma l'ordine dei frati minimi dei cappuccini al quale fedele appartiene. Poi ha aggiunto Monsignor Nunnari è bene chiarire che padre fedele non è stato sospeso per la vicenda del presunto abuso sessuale ma per disobbedienza. Padre fedele ha lasciato l'ordine di sua volontà ed è uscito dall'ordine portandosi dietro la condanna che già aveva della sospensione a Divinis dal suo ordine il quale ordine l'ha sospeso non per la vicenda della sua ora anzi voleva difenderlo contro avvocati quindi esce dall'ordine su sua richiesta quando si è accorto però che per legge lo stanno mettendo fuori.